Luca Carrera è un docente per l'Associazione Cuochi di Torino che quest'anno festeggia i 300 anni. Il territorio torinese possiamo dire che è pronto per la ristorazione, per il futuro della ristorazione? Sì, secondo me sì, abbastanza, soprattutto su quelli che sono i piatti della tradizione, magari quindi parliamo di cucina meno elaborata, più tradizionale, però rivista anche un po' in chiave moderna, quindi magari un po' alleggerita di quello che erano magari gli ingredienti delle città tradizionali molto ricche.